Scomparsa, dipartita, trapasso. La morte è una monotona ovvietà. Ha tanti nomi diversi, ma indicano tutti il medesimo fenomeno. La constatazione del decesso. Sappiamo come farvi cambiare idea. Torna la serie che va oltre l'evidenza clinica e analizza le cause più impensabili dell'Accademicar. Cessazione delle funzioni vitali. Mille modi per morire. La nuova stagione. Dall'11 giugno alle 23.05 su Discovery Science. Grazie a tutti.